In pieno fermento l'attività del coordinatore provinciale di Forza Italia Angelo Antonio D'Agostino, che il 31 ottobre concluderà la fase del tesseramento. In queste prime settimane, afferma D'Agostino, abbiamo registrato un'attenzione sempre maggiore nei nostri confronti, in particolare da parte degli amministratori locali, che trovano in Forza Italia un riferimento affidabile, credibile e in linea con l'anima moderata, proprio in larga parte, di chi amministra la cosa pubblica anche in provincia di Avellino. Intorno ad Agostino si sta consolidando un nuovo gruppo dirigente che si muove per rappresentare adeguatamente tutti i territori, ma soprattutto dando spazio ad associazioni, organizzazioni giovanili e tutte quelle realtà che a vario titolo sono impegnate per la crescita delle comunità. Forza Italia, conclude D'Agostino, continua a rappresentare il riferimento dei moderati nel panorama politico italiano, grazie alla sua capacità di conciliare la tutela dei valori liberali e il forte radicamento territoriale. Una doppia anima fondata sui principi del liberalismo economico e del sostegno alle fasce sociali più deboli, che rende Forza Italia la naturale casa politica di molti amministratori locali che, anche in Irpinia, lavorano per essere vicine ai bisogni concreti delle comunità.